Salve a tutti, questo è un video molto importante perché oggi parliamo di come riconoscere un sito farlocco e-commerce. Purtroppo anche in questo periodo molta gente sta cascando in queste trappole di questi siti che offrono prezzi vantaggiosi su prodotti, ma come facciamo a sapere se il negozio è reale oppure no, dato che esistono negozi molto ben fatti e quindi possiamo sbagliarci. Allora, prendo un sito a caso, BPM Power, ne ho preso giusto uno a caso perché ogni tanto qualcosa ci ho comprato, quindi so che questo è reale e niente, ho deciso di sceglierne uno, non volevo prendere il classico Amazon, Ebay, eccetera, eccetera. Questo è il classico negozio e-commerce, ovviamente veritiero. Allora, innanzitutto partiamo dal nome, l'indirizzo, BPM Power. Ok, tante volte i nomi sono molto strani, tipo nome e cognome di una persona, oppure un nome che indica qualcosa e poi non c'è dentro il sito. Ad esempio, tutto carta, per dire, tutto carta e cartoline, e poi dentro vende roba elettronica. Cioè la cosa fa un po' strano. Perché dovrebbe succedere questo? Perché i truffatori comprano tendenzialmente domini appena scaduti per sfruttare l'indicizzazione già presente su Google. Quindi, spesso, trovate questi nomi strani che sono vecchi siti comprati da questi truffatori che poi mettono su tutto il negozio. Ovviamente la prima cosa che dovete guardare sono i prezzi. Sono troppo bassi rispetto alla concorrenza? Allora c'è qualcosa che non va. Vi direi anche di controllare l'HTTPS qua nel lucchetto, però ormai è possibile averlo abbastanza facilmente, quindi non è sinonimo di garanzia comunque. Andiamo in basso quindi. Oltre a controllare i prezzi, quando vedete che c'è qualcosa che non va, ma sempre dovete controllare, andate in basso a controllare le informazioni che sono obbligati a pubblicare. Soprattutto la partita IVA, perché sono partite IVA commerciali. Loro devono avere i vari dati pubblicati. Quindi in questo caso abbiamo partita IVA, indirizzo, il numero di telefono. Questo è un segno sicuramente positivo. Se non trovate i contatti, se trovate solo un email di contatto c'è qualcosa che non va. Il numero di telefono tendenzialmente è professionalità. Ho visto siti farlocchi avere la chat a destra con scritto ti rispondiamo subito e magari è così, però non vuol dire nulla. Più dati ci sono, più il negozio è serio. E qua abbiamo ovviamente la via, possiamo anche inserirla nel Google Maps per vedere dove stanno, ma non vi aspettate di trovare per forza il logo della ditta con un locale commerciale. Ci sono molti negozi che vanno benissimo, ma sono localizzati in un'abitazione. Quindi non è che se trovate l'appartamento allora vuol dire che è falso. No, non vuol dire niente. Se trovate, sì, un logo, un'azienda grande, magari avete una conferma in più. Però ecco, questo non è detto. Qua ci sono gli orari, va bene. Ok, quindi telefono, si può anche telefonare. La partita IVA, questo è molto importante. Allora, molti negozi farlocchi non la mettono e se la mettono a volte è falsa. O comunque non corrisponde con il nome e cognome che potete trovare qua del responsabile o comunque del nome della ditta, ecco. Quindi andate a controllare sul sito dell'agenzia delle entrate o scrivete su Google verifica partita IVA, trovate il link all'agenzia delle entrate, inserite il numero di partita IVA e vedete che i risultati escono fuori. Controllate quindi la sede legale, il nome e tutto quanto. Ora, potrebbe non corrispondere magari un indirizzo o qualcosa, però se è tutto diverso, la cosa può far scattare un punto interrogativo. Dico questo perché io ho trovato indirizzi che poi erano diversi dalla sede legale della partita IVA, ma anche lì non vuol dire che tutto sia falso. Controllate il nominativo, però ecco, la denominazione della partita IVA. Anche lì, guardate, perché magari ecco, zona web SRL è il nominativo che sicuramente troverò, non ho controllato ma sono sicuro, che troverò associato alla partita IVA. BPM Power è il nome del sito, quindi non è che se trovate zona web SRL nella partita IVA e qui c'è scritto BPM Power vuol dire che è sbagliato. No, è semplicemente, questo è un nome, questo è un altro, quindi anche lì fate attenzione. Però con la partita IVA avete già un altro indice in più, se corrisponde, che hanno inserito altri dati. Poi, cosa importantissima, le modalità di pagamento. Il bonifico va bene, ci può stare, ma se è l'unico modo di pagare c'è qualcosa che non va. Le carte di credito, guardate, PayPal assolutamente. Contrassegno, questo è un altro indice di affidabilità. Ora, se non trovate PayPal, non è per forza sospetto, perché qualcuno può aver avuto problemi con PayPal oppure non sono soddisfatti per via delle commissioni, quindi non lo utilizzano nel sito. Ci sono siti che non utilizzano PayPal e sono assolutamente affidabili. Quindi non è questo l'indice, ecco, però più metodi di pagamento ci sono e meglio è. La ricarica postpay e il bonifico, se sono solo questi due, può essere sospetto. Può essere sospetto. Sono tutte cose da mettere insieme, ecco. Ora, però, c'è un sistema molto più efficace per riconoscere se il sito è farlocco oppure no, che è quello che io guardo prima di tutto ed è il sistema migliore in assoluto. Quindi, oltre a guardare, non so, la grammatica nel sito, perché magari sono inglesi che hanno cercato di tradurre il sito in italiano e l'hanno fatto male, quindi anche lì c'è qualcosa di strano, andate su Google e cercate nome del sito, spazio, Trustpilot, quindi scritto Trustpilot, e cercate le recensioni su Trustpilot.com. Apriamole e vediamo le recensioni. Questo è un sito molto affidabile per cercare le recensioni di altri siti. Quindi, una cosa a cui dovete stare attentissimi, attentissimi. Mai fidarsi delle recensioni all'interno del sito web, perché possono essere false, possono anche essere vere, certo, ma non sono quelle che determinano l'affidabilità di un sito. Perché io ci metto due secondi a tirar su un sito di e-commerce con tante recensioni farlocche, con nomi e cognomi a caso, foto a caso, di persone che mi dicono, ah, ottimo, perfetto. Ora, attenzione anche qua dentro su Trustpilot. Questo ha avuto un'esperienza negativa, ma non dice che il sito è truffaldigno. Ha detto che ha avuto un problema con l'assistenza e gli operatori. Matematicamente un sito così grosso come BPM Power, su migliaia di recensioni, ci sarà qualcuno che ha avuto un'esperienza negativa, ma infatti basta andare più giù, ed ecco qua. Economici e affidabili, 4 su 5, prima esperienza disastrosa, mi rimborsano dicendo che il ricambio non è disponibile, se non li contattavo voglia di aspettare deluso, ma c'è stato un rimborso qua. Quindi anche qui non c'è stata una truffa. Sito affidabile, ottimo sito, affidabilità, buon prodotto, azienda molto seria, esattamente quello che volevo, ho acquistato qui, bla bla bla, guardate, ogni tanto qualcuno ha un problema, questo su tutti i siti, tendenzialmente. Però ecco, voi dovete stare attenti invece se trovate tutti i voti a una stella e tanti voti che indicano nella descrizione attenzione, non mi è arrivato l'oggetto e non ho avuto il rimborso. Questo è importante. Controllare appunto la truffa. Quindi su Google cercate il nome del sito e cercate più informazioni possibili su quel sito al di fuori del sito stesso. Quindi su Traspilot 1, anche però su altri social, altri forum, a volte le persone scrivono ma avete mai comprato a questo sito, cosa ne pensate? Quindi state attenti. E state attenti anche alle recensioni comprate, fasulle, perché un'azienda concorrente potrebbe addirittura andare su siti affidabili e infilare una serie di recensioni, tutte negative apposta. Quindi purtroppo la conferma al 100.000x1000 potrebbe non esserci mai, però con questo sistema io non ho mai avuto problemi e ho identificato siti farlocchi che mi sembravano, mi puzzavano per così dire. Sono entrato qua su Traspilot, ho visto che tutti quanti inserivano che era sito truffaldigno e mi sono salvato. Quindi numeri di telefono, partite IVE, sono tutti sistemi per andare ad identificare un possibile truffatore. Ecco perché vi dico tendenzialmente fidatevi dei siti con esperienza che sono lì da un bel po' di tempo e appunto per quello adesso andiamo a inserire il sito web, quindi faccio copia, su questo sito web che vi metterò anche il link in descrizione, Whoislookup. Se inseriamo un sito web e facciamo search possiamo avere diverse informazioni sul sito stesso. E questo è il risultato. Allora a volte avrete più informazioni come in questo caso, ad esempio Amazon.it ci dice molte più cose sulla data, quanto è vecchio il sito, quindi creato, scadenza. Però anche se trovate una sezione ridotta come in questo caso, ecco va benissimo lo stesso, nel senso il sito è affidabile e qua trovate altre informazioni sul sito. Quindi mettendo insieme tutte queste cose riuscirete a capire se il sito è affidabile oppure no. Quindi controllate tutte queste cose. Se siete indecisi telefonate, controllate la partita IVA, fate incroci, ma soprattutto controllate. Se dovete investire più tempo in una di queste ricerche investitelo sulla ricerca del sito al di fuori del sito stesso. Io scrivo ad esempio su Google BPM Power, questa volta senza indicare Trustpilot. Troverò ovviamente il sito, trovo prezzi, Trustpilot, altroconsumo.it, quindi qui abbiamo una recensione. I social, quindi presenza del sito sui social assolutamente positiva, perché anche lì dentro potremo avere diverse recensioni degli utenti e sulla pagina Facebook potremo trovare molte più cose, ad esempio, o non lo so, un profilo Twitter, una pagina Instagram. Solitamente più facile che troviate una pagina Facebook, comunque più cose ci sono meglio è. Bestshopping.com, anche qua guardate ci sono altre recensioni su questo sito. Sono tutti però siti esterni a BPM Power. Quindi qua ci possiamo fidare, ecco qua, vedete? Ecco altre recensioni di utenti. In questo caso tutte ottime. Qui ecco, questo ha avuto un problema, gli hanno detto che dopo due giorni non era più disponibile, però appunto non c'entra niente con la truffa, ecco. Ecco qua, tutte positive del resto. Poi abbiamo una recensione di altro consumo. Che ovviamente non dirà che è una truffa, quindi a posto. Eccolo qua, buono il giudizio complessivo. Perfetto. Quindi più informazioni esterne trovate, più il sito è affidabile. Se dovete pagare qualche euro in più da un sito che è certamente affidabile, vi consiglio di farlo se siete indecisi, perché se poi non vi arriva niente, ci rimettete. Ovviamente. Spero quindi di avervi dato un bel po' di indicazioni e ci vediamo al prossimo video.